Ciao a tutti, oggi prepariamo i brownies dal libro Dolci senza rimpianti, una ricetta semplicissima e super veloce. Occorreranno zucchero di canna integrale, semola rimacinata, farina integrale, cacao amaro, cremortattaro, bicarbonato e sale, olio extravergine, bevanda di soia e cioccolato fondente. Nella ciotola versiamo prima tutti gli ingredienti secchi. Mescoliamo per qualche secondo, poi aggiungiamo i liquidi. Completiamo l'operazione con il frullino mescolando fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Versiamolo in una teglia rivestita di carta a forno bagnata e strizzata. Inforniamo a 180 gradi in modalità ventilata per 20-25 minuti. Il dolce non dovrà risultare asciutto. Una volta raffreddato tagliamo a cubotti e spolveriamo di cacao amaro. Buona colazione a tutti con i brownies dal libro Dolci senza rimpianti. Ciao! Grazie!